Barone Targon, pavimenti in terrazzo alla veneziana L'azienda Barone Targon nasce nel 1984 a Vicenza ed è specializzata nella realizzazione di pavimenti in terrazzo alla veneziana. I signori Barone Targon, amici d'infanzia, intraprendono molto presto quest'arte affiancando i migliori maestri terrazzieri. Con la stessa passione e i segreti del mestiere realizzano pavimenti di ville, palazzi e denti pubblici del Veneto. L'azienda lavora nel rispetto per la tradizione del pavimento alla veneziana e fa parte del consorzio Il Terrazzo alla Veneziana che seleziona e riunisce le migliori ditte del settore operanti nel territorio nazionale. Garantisce quindi la qualità del pavimento dalla scelta al trattamento dei materiali, dalle fasi di lavorazione alla consegna del prodotto finito. Tutela il cliente da false imitazioni e certifica la qualità dei prodotti finiti, dei materiali e dei processi produttivi in genere. È in regola con gli adempimenti retributivi, contributivi e assistenziali nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti. Così come nei confronti delle disposizioni di leggi riguardanti la sicurezza dei cantieri e il rispetto delle norme ambientali.